ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi andremo alla scoperta della città di nantes nella luar atlantic una bellissima città con un bellissimo centro storico pieno di edifici storici medievali c'è un bellissimo castello il castello del duca di bretagna perché duca di bretagna perché nantes storicamente è stata capoluogo della bretagna delle principali città e residenza del duca di bretagna poi circa una cinquantina di anni fa con una riorganizzazione nazionale di province regioni nantes è passata alla luar atlantic ma in realtà i cittadini di nantes si sentono tutti gli effetti bretoni di fatti in città campeggiano bandiere bretoni parlano diciamo dialetto bretoni ci sono tanti dolci tipici bretoni e anche la lo stemma della città al suo interno simboli proprio bretoni questo storicamente poi in realtà la città adesso della luar atlantic la zona comunque è una zona pianeggiante ci sono tante cose da vedere anche nei dintorni dei paesini limitrofi siamo quasi sulla costa atlantica la città sorge sul fiume aluar il centro addirittura è un'isola dentro il fiume ovviamente la città si espande sulle due sponde del fiume in questo video vi farò un breve elenco delle cose principali da non perdere e se qualcuno ha qualche giorno in più che magari vuol fare una gita fuori porta anche qualche consiglio su dove andare e vi parlerò anche dei trasporti come arrivare in città come arrivare in centro dove dormire insomma un po di cose nante una città che ho visto decine decine di volte ci sono stato spesso per lavoro quindi un pochino di esperienza della città me la sono fatta e seguiamo insieme a questo video e vediamo alcuni consigli pratici per nante come arrivare a nante a nante si arriva con l'aereo come in tutte le grandi città ci sono voli diretti da dalle principali città italiane se no con uno scalo a parigi poi da parigi a nante sono circa 50 minuti di volo una volta arrivati all'aeroporto nante atlantic il centro della città sono circa mezz'ora di distanza ci sono in taxi oppure c'è uno può affittarsi la macchina devo dire la verità se uno deve girare la città superfluo che si gira tranquillamente a piedi il centro storico ci sono mezzi efficienti e che portano un po dappertutto nella città se no l'alternativa più economica è quella di prendere l'autobus c'è l'autobus che porta dall'aeroporto al centro città costava 9 euro l'ultima volta che sono andato parliamo di tre anni fa 2019 quindi il prezzo era di 9 euro più o meno sarà rimasto pressoché invariato o aumentato di poco e ci mette una mezz'oretta il servizio bus c'è ogni 20 minuti il servizio da e per l'aeroporto quindi fa dalla dall'aeroporto alla stazione centrale poi una seconda fermata in centro la città e viceversa costa sempre quello poi in città una volta arrivata in città si può dormire ci sono diversi alberghi più tanti sono nel centro della città il prezzo medio non non è elevatissimo si dorme con delle cifre insomma come nel resto della francia più o meno non è carissimo dormire ovvio che dipende anche dalle aspettative che ognuno ha però diciamo che si trova con dei prezzi umani da dormire e anche da mangiare c'entra molto bello cioè arrivando con l'autobus la prima fermata dalla stazione centrale che è di fronte al castello del duca di brettagna quindi già uno come arriva a questa bellissima immagine davanti a sé poi c'è tutta una zona pedonale che si può fare tranquillamente una passeggiata e arrivare poi nel centro dove ci sono i principali alberghi sicuramente una delle attrazioni più belle della città è la tour de bretagna quindi un palazzo grattacielo molto alto al centro della città che con un euro si sale su con l'ascensore si va in cima alla torre c'è un bel bar con una terrazza fuori dal quale si può vedere tutta la città e quattro angoli della città proprio si può fare il giro in questo open bar e se si becca una bella giornata di sole si può vedere anche fino al alla focce del fiume loira quindi l'atlantico la città è comunque grande non è piccola e dall'alto sicuramente fa un bel effetto sicuramente merita la visita alla cattedrale di san pietre paolo un edificio grandioso del tardo gotico tra l'altro è una chiesa che è stata costruita addirittura in 450 anni è stata terminata nel 1891 ed è un monumento storico nazionale le origini del castello risalgono al 1207 l'edificio fu fatto costruire da guide tour e ampliato da pierre de dr e giovanni primo quindi ricostruito nel quattro dicesimo secolo da giovanni quarto di montfort l'aspetto attuale si deve però soprattutto agli imperamenti fatti da francesco secondo di bretagna nella seconda metà del quindicesimo secolo e da sua figlia anna che lo completò in seguito divenne castello reale oltre che residenza dei governatori dopo il 1500 nei secoli a seguire fu utilizzato anche come prigione caserma e arsenale il castello funse sia da fortezza militare che da residenza e dal sedicesimo secolo anche dei reali di francia e fu teatro di importanti eventi storici tra i quali il matrimonio tra francesco secondo di bretagna e margherite de foie la nascita della loro figlia anna di bretagna il matrimonio della stessa anna di bretagna con luigi dodicesimo di francia la firma dell'unione tra il ducato di bretagna e il regno di francia e probabilmente anche la firma dell'edito di nantes da parte di enrico quarto di francia nel 1598 è classificato monumento storico dal 1840 ed è di proprietà della città di nantes che dal 1915 ne ha fatto diventare sede museale della città dietro la stazione dei treni c'è il parco della città tra l'altro suddiviso in due zone c'è un diciamo una parte bassa del parco dove troviamo subito le caprette c'è un'area recintata dove sono le capre e le con le galline e i bambini possono anche tranquillamente dar da mangiare alle caprette una cosa anche piacevole un momento di svago per sicuramente chi ha i figli per far riposare un po i bambini da dare passeggiate nelle città poi ci sono un paio di laghetti con diversi uccelli comunque è un giardino molto ben curato e poi c'è sopra nella parte superiore del parco cioè giardin de plant che è un giardino botanico anche questo tutto ben curato e merita sicuramente una una visita o un break di qualche ora ecco un'altra cosa bella da vedere la fabbrica della lù dei biscotti della lù lù significa l'unico luogo unico diciamo in nome è stato dato in omaggio alla città di nantes dal proprietario della fabbrica della lù ora in realtà è un non è più una fabbrica dei biscotti il locale è stato adibito a c'è una mostra ristorante insomma è stato un po ritrasformato e sono un po di attrazioni all'interno poi per chi è appassionato di palazzi storici è molto bello da vedere il teatro graslin place della republic dove c'è una bellissima fontana dedicata a nettuno dio dei mari poi è molto bella anche la passage pomeran che è un diciamo ha diventato un mini centro commerciale in realtà è una galleria dove ci sono diversi negozi tutti però in stile antico quindi con negozi in legno c'è la scala centrale in legno veramente molto bello e ci sono negozi magari c'è negozi che vende cioccolato negozio che vende tè prodotti diciamo per la casa insomma tutte cose un po particolari non molto turistica come cose però vale la pena passarci un'oretta in questo palazzo mettiamola così palazzo d'epoca centro commerciale all'antica poi dopo si può anche fare un giro diciamo per le vie del centro che c'è pieno di negozietti carina tutta pedonale molto vivibile diciamo nella zona del centro in un paio d'ore le attrazioni principali si girano ecco le machine de lille sono una delle principali attrazioni turistiche site presso l'isola di nantes si trovano al parc des chantiers dei vecchi cantieri navali e includono il grande elefante il carousel del monde marine e alcune altre giostre sono praticamente delle creazioni meccaniche di grandi dimensioni che secondo i loro creatori si collocano all'incrocio tra i mondi inventati di jules verne l'universo meccanico di leonardo da vinci e la storia industriale di nantes per chi volesse farsi una gita fuori porta col tgv che ci sono tantissimi treni con frequenze rapide si può arrivare un'ora e mezza alle sabre d'olonne che è un bellissimo paesino sulla costa una località turistica di mare c'è una bellissima spiaggia diverse cosine da con un po di negozi ristorantini dove si può magari fare una bella passeggiata sul lungomare e una bella stagione ovviamente può essere una gita piacevole un'altra bella gita potrebbe essere quella di andare a visitare lo chateau de clisson in un castello che dell'anno 1000 circa nel paesino di clisson si può arrivare col treno o con una macchina noleggio poi magari potrebbe essere anche una bella idea alla macchina noleggio così uno poi fa un pochino di giro anche di tanti altri paesini che ci sono l'intorno il castello come dicevo una fortezza di dell'anno 1000 circa tenuta bene è una cosa che vale la pena visitare per chi è amante di queste fortezze storiche lascia proprio l'immagine del medioevo e secondo me merita e poi c'è anche all'interno insomma una sorta di museo somma di un pochino di reperti cose da vedere ecco c'è anche la guida per chi volesse prendere la guida comunque come in tutti i posti uno può fare il self service e visitarsi il castello da sole intorno al castello poi c'è il classico fiume e c'è un paesino c'è diciamo il paesino di clisson con un parco che è molto 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 tranquillo proprio lascia un'atmosfera di serenità e tranquillità ed è piacevole passarsi magari una domenica in relax fare un picnic è una cosa veramente piacevole a me questo io consiglio la città di nantes non è neanche troppo lontano arrivare a san malo e quindi a mont saint michel io l'ho fatto ho preso il treno da nantes a ren poi ho cambiato il treno da ren a san malo un'ora un'ora insomma un'ora e mezza si fa è stata una però poi ho dormito a san malo ho soggiornato lì perché poi comunque san malo è un posto che merita magari farò un video a parte sul canale apposta su san malo e mont saint michel diciamo che quella non può essere una gita di un giorno quello è proprio prendere andare a farsi un'altra un'altra vacanza ecco eccoci giunti alla fine di questo video spero che possa esservi d'aiuto questa mini guida a programmare la vostra vacanza a nantes e dintorni se vi è piaciuto vi invito a mettere un like e iscrivervi al canale per non perdere le prossime novità in arrivo sul canale grazie e alla prossima ciao